1, 2, 3, 4 Cazzo, non sto registrando lì Bella a tutti ragazzi e benvenuti su DRM Games, io sono Maurizio e questa è la terza puntata di questa run di ricostruzione Dunque, come avevo detto, off screen ho recuperato un po' di oggetti, la cotta di Drangleic, la spada di fuoco, un po' di roba, ciarpame vario, tutta questa roba qui Ho aumentato qualche livello di forza, destrezza, adattabilità e vitalità Mi sono comprato qualche gemmina, mi sono messo i pantaloni gambali di Drangleic, i guanti di Drangleic, qua ho lasciato come era prima E voilà, vi ho risparmiato la ricerca degli oggetti perché è abbastanza inutile Quindi, qui, 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 andiamo a vedere un attimo una cosa qua Questa casa qui Dunque, la mia idea è cercare di non lasciare mai una puntata senza una boss fight Quindi, diciamo che non farò tanta roba di esplorazione Cioè, quello che è superfluo lo farò off screen Qua sentiamo già grattare Allora, quanti scheletri qua in NG normale, non mi ricordo Ahah, è bello Ehm, madonna No, 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 no C'è troppa vita Umanità E figi umani, via Qua non mi ricordo Oh Oh, buono Andiamo poi subito a prenderlo Perché Non ho intenzione di passare dal persecutore per andare alla bastiglia Oh Quanto mi piace il ricettacolo Ma voglio passare da Da Haid Quindi Niente, tutto qua Voglio passare da Haid Punto E passaremo da Haid Qua dove era il baule E va qua dentro E basta Non mi sembra ci fosse nient'altro qui A parte i porcellini che mi fanno gli attentati Ma noi Scialquare non ci parlo ancora Tanto Non mi serve Da, stamina Ah, ok Poi consegniamo il frammento Qui è 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 E voilà Abbiamo potenziato la Estus E via Verso Haid Sempre stamina permettendo Ah, a proposito Qua avevo dimenticato Avevo dimenticato Un oggetto Non ero passato di qua Buono Non ne faccio Praticamente mai uso Però Se per caso Una volta dovesse usarli Ce l'ho Allora Così sblocchiamo anche Lissia Qua c'era un baule Con il Parma Mi sembra Il Parma Dove? Parmageddon Leva Sto a pesare La spada spezzata Che Non mi serve Quindi Via 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 Ah Così Senza Nega che farmi salutar Ah Mamma mia E Globo Qua Ascendiamolo solo Non sediamoci tanto Per adesso Va bene così E Già che ci sono Potrei fare Vabbè Facciamo questa zona qua Oggi Dai ciccio Eh no Mauri Già è vero Che questi Grazie Dai Schiatta Ok Ok Andrò a bruciare Poi Non adesso Facciamo un corso a skip Tanto Posso cederlo in un secondo momento I mob Dell'area Facciamo uno skip Una roba veloce E andiamo direttamente dai boss Sì Salutamelo Salutamelo tanto Però dovrei ucciderli Per la piattaforma Non l'ho mai combattuto Senza attivare Tutte le piattaforme Potrei anche fare Qualche cagata Permesso Permesso Sono vicini Dai Eia Ma bastardo Ma bastardo Pirla io eh Però bastardo lui Ehi Dove sono Uh quanto poco spazio Ah dai Il danno è buono E lui è pirla Solo che io Potrei anche Essere più pirla di lui E farmi Picchiare Ecco infatti Farmi picchiare così Oppure così Lei mi deve lasciare Un attimino eh Bravissimo Ok si faccia pure sotto Ma dai Quando vuoi iniziare A giocare bene Fammi un fischio Porca vacca Quando vuoi Oh Il pelo Dai dai Se Se rollo Quando non devo Dai Ma da Da che distanza Ragazzo Uno Uno Ok Dai Farei lo Shield bash Solo che Rimbalzo Giù E E E E E E ti bevo Alle spalle Madonna Ho tre Fiaschette Per Sto ciccione Eccolo Ebbè Uno dovevo Prenderlo Ho finito La stamina E E Ci salutiamo Fuori Vittoria Neanche tanto Sfolgorante Ci sediamo E Adesso Non dovrebbe Vabbè Intanto parliamo con lei E Spediamo la Magiula Magiula Ma cosa mi fai Niente Vabbè Miracoli Potrei comprarli Anche dopo Tanto Mal che vada Usarò cura Ok Mal che vado Usarò cura E Vai Quella La vende Anche Melenzia Melenzia Volevo Saltare Di là Ma Mi faccio Danno E Spreco Ho cura Quindi Boh Facciamo il giro Lungo Salutamela Non mi ricordo più cosa c'era in quel baule Ci torno dopo Mi dicono dalla regia Fiore verde Ma Me l'hanno sussurrato Allora Io adesso sto rischiando Perché Per tirare quella leva là Per tirare quella leva là Mi ci vuole Un po' di tempo E questi qua Mi sa che Hanno agro infinito Ah Devo ammazzarlo Per tirare sulla leva Vero Facciamo una cosa veloce Ehi Dove Dove sono gli altri Dai 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 Schiatta Schiatta La leva La leva Ma Guardali lì Uff Emo Io Provo A fare così E li porto qua E poi corro a tirare la leva Il plotone di esecuzione Dai Pronti via No Mamma mia Quello lì Con sto Attacco Ritardato Che mi fa sempre Strizzare Forza Tira Sta leva Tira Sta Eh sì Questo è stato Un colpo da campioni Permesso Permesso Faccio bene che sono più veloce di loro E mi danno magari il tempo di aprire qua A raccogliere Aha E lo strizzate Oh Buono Me l'ho dimenticato che si trova qua L'anello del vino Vai via No Non va via Prima che arriva quello là Via 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 E' il mio vecchio amico Ma non ci credo Ma non ci credo Ma dai Ma dai No comment No comment Oh Adesso Adesso Non ho più buff Ma non ci credo Mai Vabbè almeno Torniamo Mari va Oh Cribbio Vabbè Maledetto Orstein Ecco Adesso sono triste Eeeh Va a finire che Lo prendo in tristezza Eeeh Non riesco a farlo Sono Demoralizzato Guarda lì Un po' di Luca Vai 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 No madonna Che Che bastardo Salve Fammi recuperare le anime Va Dai Sono qua Sono qua Sono qua Io l'avrei Roll Rollata Dai Oh Ma quando mai Li fai sti attacchi Cioè Ho fatto Tre run E non l'hai fatto Una volta Ok Facciamo recuperare Un po' di stamina Va Recuperiamo un po' di stamina Mina Mina Guardalo Oggi con i malocchi È incazzatissimo Perché sei così Incazzato Bella Bella combo Minchia Se sei veloce No dai Dai Eccolo lì Colonna Proteggimi tu Guardalo Vandalo Non si Rovinano le chiese Così Forza 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 Io non avendo fatto Tante volte i boss Non so Le loro La loro tipologia di attacco Di combo Dai Lì che ci sono le panchine Siamo scomodi Ecco Ad esempio Qua ci stavo per ricascare Se non era per la distanza Mi prendeva lo stesso E che Madonna C'è mal di pancia Si era messo in poso Per farsi fare la foto No Vabbè Però l'ho colpito Dai 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 Che mi viene il capogiro Dai ancora due Due colpi Uno E due E Orstein ci saluta Il maledetto Che ci ha ucciso Porca puttana Se mi girano L'anello del leone Che mi piace Siccome Mi piace fare i perri Quell'anello lì Mi diverte Alquanto Anche se Ho notato che Non è che Mi cambia di molto Non ha Non cambia Di molto Ok Qua con lui Non possiamo ancora parlare Perché non abbiamo fatto Nessuna cooperazione Quindi Non avendo segno di fedeltà Non ci caga di striscio Quindi Accendiamo questo farò Riposiamoci E Bom Direi che Ci possiamo salutare qui Hola Ragazzi Grazie Voglio ancora ringraziare La strana coppia Per avermi Sponsorizzato A loro volta Ci siamo presi Un po' Di Alla sprovvista Tutti e due Loro volevano fare Una sorpresa a me Io ho fatto Una sorpresa Volevo fare Una sorpresa a loro E ci C'è stato Uno scambio Di sponsorizzazioni Ed è stato Incredible Bene ragazzi Alla prossima Ciao Bu 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 Bu